Siamo alla presenza del sindaco del comune di Isola del Piano che ci illustrerà le iniziative molto coraggiose e che hanno avuto esiti molto positivi nel suo territorio. Bene che viene confiscato alla criminalità organizzata, viene confiscato nel 2006 e praticamente con l'elezione, quanto io divento sindaco nel 2010, chiedo l'affidamento di questi beni, il nuovo affidamento perché praticamente per 4-5 anni era stato inutilizzato, chiedo il nuovo affidamento e mi metto in contatto con Libera e di conseguenza con il gruppo di Donciotti per fare in modo di avere il supporto di anche Libera in questo progetto che è già nato e che sta andando avanti. Praticamente i beni ci vengono consegnati nel 2011 e c'è un progetto che in questo momento c'è un corso di formazione che si sta facendo a Scuola Berghiera che è stato finanziato dalla provincia che praticamente alla fine avremo dei operatori agrituristici perché il progetto è la creazione di un agriturismo naturalmente biologico perché il bene, oltre ad avere due ville che sono state confiscate, due case coloniche, c'è anche 6 ettari di terra, il progetto è quello di fare agricoltura biologica puntando naturalmente anche sulla biodiversità e il biologico anche perché Isola del Piano è un paese conosciuto come la capitale del biologico. E con questi beni a chi erano stati sequestrati? Ha una famiglia che era originaria di erba che arriva a Isola a metà degli anni Ottanta e acquista questi terreni, più altri terreni che erano nel limitrofo comune di Monte Felcino e nel 2000 con l'operazione Sciacallo condotta dalla questura di Lecco vengono accusati di essere una banda dedita a distorzione e tant'altro, prostituzione, eccetera, eccetera che operava appunto tra erba e Lecco i beni vengono confiscati e nel 2002 assegnati, come dicevo prima, al comune di Isola del Piano nel 2006 e praticamente oggi sono beni inannidabili dello Stato gestiti dal comune. Quindi già stanno funzionando, diciamo, con le nuove attività? No, ancora le nuove attività non ci sono anche perché i beni quanto vengono assegnati le famiglie a cui appartenevano questi beni li fanno trovare nella maggior parte dei casi in pessimo stato li riducono praticamente allo sfascio Quindi sono in fase di recupero, diciamo? Sono in fase di recupero anche perché è un progetto che parte che coinvolgerà io mi auguro che coinvolga tutte le attività produttive tutte le forze, diciamo, che credono nella legalità della nostra provincia anche perché il comune di Isola del Piano un progetto del genere difficilmente ce la farà a sostenerlo per cui cercheremo di fare dell'azionariato popolare di coinvolgere aziende di coinvolgere chi nella legalità veramente crede ed è disposto in parte ad investirci non solo del denaro ma anche del tempo venendo aiutare a fare delle cose Quindi è anche un'azione culturale nel senso di che ha come fine la preparazione della collettività finché non è più che altro un'attività culturale una preparazione culturale perché certe situazioni di mafiosità di mafia o situazioni di criminalità organizzata tu riesci a sconfiggerle solo con azioni culturali perché altrimenti non c'è speranza cioè l'incontro che abbiamo fatto questa sera che ha visto coinvolto la scuola media di Sant'Angelo e Lizzola il progetto che stanno facendo il circolo di Sant'Orso qui con Corridoni a Pesaro che ci hanno già fatto un paio di uscite e sono venuti a raccogliere l'oliva con i ragazzi della quarta elementare con l'oliva e con i genitori verranno su a piantare un olivo verranno ad abbattere un muro il progetto che sta portando avanti la verticalizzazione Isola del Piano Montefelcino e Serongarina un progetto su alimentazione e legalità voluto dall'amministrazione comunale di Isola del Piano cioè sono tutti progetti e peccato che io spero di radunare tutte queste scuole a Isola del Piano il primo giugno quando ci rasa la festa appunto nella fattoria della legalità perché mettere in rete queste esperienze di queste scuole è una cosa importante perché se noi riuscissimo a fare un progetto su tutte le scuole della provincia puntando sulla legalità sull'alimentazione sul vivere civile quella che una volta era l'educazione civica che veniva insegnata quando andavo a scuola io e che oggi magari non si fa più cioè riportare le fondamenta principali di cos'è la legalità cos'è lo stare insieme cos'è il rispetto dell'altro e cos'è tutta una serie di azioni poi legate a questo bene la ringrazio e faccio tanti complimenti per questa iniziativa più che meritevole diciamo vi ringrazio io e buona serata a tutti buona serata amici di Onda Libera buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti